da questa situazione, dobbiamo imparare veramente a sganciarci da situazioni che non ci generano nessun piacere, in nessun modo, quindi questo va tenuto presente, quindi se tu ti sganci come reagisce il cervello, reagisce sbagliato lui, ho fatto bene a farlo, perché la dissonanza cognitiva e la mente va dietro all'azione, quindi agisci e agisci in quale senso? Nel senso di rispettare te stessa, te stesso, rispettare la tua dignità, questa è l'unica possibilità che hai di venire fuori da un rapporto con un narcisista, altrimenti ci entri sempre più dentro. Bene, questa volta per questo video è tutto, ti ricordo alle 14 la premiera sul canale Massimo Tramasco dove proprio spiego una tecnica per liberarsi dai narcisisti e ti ricordo l'appuntamento a Torino, a Torino, a venerdì, viene a Torino, a San Valentino, viene a Torino, venerdì 14 febbraio 2020, il mio seminario come avere fascino per farti amare, riferimento 333 15 11 703 e poi l'appuntamento di Milano, domenica 1 marzo 9 30 19, autostime seduzione, innamoro al lavoro, riferimento 333 15 11 703. Bene, per questo video è tutto, mi raccomando abbonati al canale Massimo Tramasco e per simpatia anche con la quota simbola, simbolica al canale Felicità e Benessere. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!